Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 2 km di coda verso Livorno. In A1 tra Calenzano e il Vivio con la variante di Valico-Baccheraia, code a tratti in direzione Bologna e rallentamenti in direzione Roma. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i km 268,500 e 269,900 circa nel comune di Barberino-Tavarnelle fino al 30 giugno. Per la viabilità cittadina, Firenze dal lunedì 3 maggio torna l'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!